Io credo che il Sustainability Manager sia una figura destinata a restare nelle imprese, ad accompagnarci per i prossimi anni proprio per la funzione che ha di interconnessione, di creazione di relazioni e di visione di insieme, di quello che ci si augura invece sempre di più i singoli responsabili delle diverse funzioni faranno da soli, faranno con il loro team in cui sarà cresciuta la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di sviluppare sostenibilità. Per fare questo c'è bisogno sicuramente di molta capacità di coinvolgimento, di umiltà, di andare a prendere quelli restini, quelli ostici, quelli più lontani dai temi di sostenibilità, facile giocare in casa con chi è già sensibile, con chi già da solo sviluppazione di sostenibilità, abbiamo bisogno di portare in modo omogeneo una cultura diffusa in tutta l'organizzazione e per questo il Sustainability Manager deve sapere anche dialogare con accenti e linguaggi diversi nei confronti dei diversi interlocutori. Grazie a tutti.